Sapevano i punti dove andare, dove mirare, dove aprire, dove cercare l'obiettivo. Si sono intrufolati all'interno del locale aprendo un buco in questo muro. Un colpo ben organizzato ma soprattutto studiato nei minimi dettagli è stato messo a segno nella cuore della notte in una bar di ambra Valdarno Aretino. Tutte le porte chiuse, tutte le finestre a posto, l'allarme non era scattato e poi ho visto la sorpresa. I ladri a volto coperto sono entrati in azione attorno a mezzanotte e mezzo. Hanno proprio portato via l'interno della serratura e poi hanno fatto questo lavoro che è un lavoro non di cinque minuti come facevano una volta, le prendevano e le tiravano fuori. Questo è un lavoro di qualche ora. Nessuno però ha sentito niente questa notte? Lo strano è sempre questo, purtroppo nessuno sente niente ma ci saranno anche le paure. Una volta dentro si sono diretti verso le slot machine che sono riusciti a scassinare. Sono rimasti solo lì, in questo metro delle slot. Ieri poi era passato quello dei videogiochi che poi le caricano, ci mettono soldi, cambio monete, forse lo sanno. La banda per poter agire indisturbata ha anche oscurato le telecamere di videosorveglianza che comunque hanno immortalato i loro movimenti iniziali. Più che fare l'allarme, telecamere, inferriate, protezione, entrano così. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di San Giovanni Valdarno che stanno portando avanti le indagini.